Toaizo è, penso, non solo per i ragazzi, un'esperienza di vita molto forte, perché sia dal punto di vista educativo e dal punto di vista sociale, è un ritrovarsi, un partagere, un condividere, molte emozioni, tra i quali ovviamente l'amore per la musica, ma anche il sostegno, da noi insegnanti verso gli allievi, ma anche il loro volerci dare il massimo, tra i ragazzi il sostenersi per riuscire a dare il meglio, nelle varie funzioni che loro assumono, perché appunto è bellissimo questo lato che ognuno prova il ruolo dell'altro, quindi ognuno è sensibilizzato alla funzione importante che si deve assumere e al sostegno che si deve dare ai colleghi, ai propri compagni, quindi questo condividere in continuazione emozioni e formarsi insieme, questa è una bellissima scuola di vita, perché in realtà di questo si tratta, penso come in tutte le orchestre, i gruppi, gli ensemble, l'equip, bisogna fare squadra, bisogna essere forti insieme, cadere insieme, risalire insieme e guardare sempre lontano. E niente, si può solo desiderare il meglio e un grande futuro e continuare per questa strada della bellezza.